Cosa c'è? Visionaire. Cosa? Visionaire. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee? Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Visionaire al cinema con Laura Buffa. Noi sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Visionaire. Sarà Everest di Balthasar Kormakur il film d'apertura fuori concorso della 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Everest verrà proiettato in Prima Mondiale il 2 settembre. Ispirato a fatti legati al tentativo di raggiungere la vetta più alta del mondo, documenta il viaggio di due spedizioni che si imbattono in una violentissima tempesta di neve. Nel cast Jason Clarke, Josh Brolin, Robin Wright, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson e Jake Gyllenhaal. Rimaniamo a Lido perché la settimana internazionale della critica festeggia la trentesima edizione con un ospite d'onore, l'attore e regista Peter Mullan, a Palma d'Oro per My Name is Jodie Ken Loach e Leone d'Oro per Magdalene. L'evento d'apertura sarà la proiezione del suo film Orphans, premio speciale SIC30, come miglior opera prima della storia della settimana della critica. Mentre Matteo Garrone riceverà il premio Vento d'Europa. Si tratta del riconoscimento del Ventotene Film Festival che si terrà per la ventunesima edizione dal 26 luglio al 4 agosto. Il regista sarà a Ventotene il 28 luglio per un incontro a cura di Mario Sesti. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti sembra che i registi di The Lego Movie, Phil Lord e Christopher Miller, si occuperanno di un film dedicato al giovane Han Solo, uno dei protagonisti dello storico Guerra Stellari. A scrivere il film ci sarebbero Lawrence e Joe Kasdan. Ci sarebbe anche una data d'uscita, il 25 maggio 2018. Al momento però la Disney e la Lucasfilm non hanno rilasciato alcun commento. In chiusura ci diamo appuntamento al Sofitel Rome Villa Borghese della Capitale, dove fino al 31 ottobre si terrà la mostra Magnifique Bardot, dedicata alla diva francese ritratta dal fotografo Leonardo Remy. Dopo una prima a Saint-Tropez e a Roma, gli scatti voleranno oltre a Atlantico. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!